Dove resta l'obbligo delle mascherine dopo il primo maggio? Subito dopo il ponte del 25 aprile il premier Mario Draghi convocherà la cabina di regia e poi il consiglio dei ministri per varare un nuovo decreto che conterrà le date di uscita dalle ultime regole in vigore. In attesa delle decisioni del governo la regione Campania sta già vagliando un'ordinanza più restrittiva che ne mantenga l'obbligatorietà, in particolare in ristoranti, strutture ricettive e negozi ma anche in strada laddove si creino assembramenti. I numeri non sono tranquillizzanti non tanto nelle terapie intensive ma nei ricoveri ordinari. Abbiamo intorno a noi un numero enorme di positivi, ha sottognato nella consueta diretta Facebook il presidente della regione Campania. Grazie a Dio non abbiamo grandi criticità sanitarie però il problema rimane pesante. Nei prossimi mesi avremo il mescolamento sociale, le ferie, i turisti. Manteniamoci prudenti per cortesia e usiamo la mascherina, aggiunge. Lo dico soprattutto ai ragazzi, non vi fate condizionare dalla logica del branco. Se non portate la mascherina non siete più maschi, siete più stupidi. Pensate a tutelare la vostra salute perché tutti abbiamo voglia di una vita normale. Effettivamente il virus non molla, anche i numeri che riguardano l'Irpinia vanno in questa direzione. Il bollettino odierno come tutti gli altri di fine o inizio settimana fornisce numeri diversi rispetto agli altri giorni. I positivi odierni infatti sono 658 e calano anche i nuovi casi in città che oggi sono 79. Non diminuisce invece il numero dei comuni con casi covid. Il virus è infatti presente in 103 centri della provincia. Come purtroppo non si alleggerisce la triste conta dei decessi nei reparti covid. Nella giornata di ieri al Moscati sono morte altre tre persone.